Ah, bravo! Cin cin! Allora la giugneria ce l'ha mica ancora detto, è un maschietto o una femminuccia? Eh, eh, eh! Eh, allora, questo, lui, non l'hanno ancora deciso, i medici. Ah, ecco. E le assomiglia? Eh, no, no, non mi assomiglia niente a me. Beh, ci dica, ci dica almeno com'è fatto. Ce lo descriva. Eh, questo, esso, questo... Neonato? Neonato. Parte a tutto un... Un naso? No, non è un naso, questa è la parte di dietro. Il naso di dietro. Sì, perché si può anche... Capavolgere. Sì. Sì, capisco. Ha tutto un... Dei bozzi. No, perché... Ehi, è un uccello. No. Eh, è come... Una tromba, una tromba, suona la tromba. No. Quindi... Ma senti a ragionire, ma non ha una sua fotografia. Eh, appunto. E con la tromba, la tromba. Ha un... Ha un... Eh, lo so apprezzo. Facci vedere, facci vedere. Bene, 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 bene. Ecco. Ecco, cos'è. Ce la faccia vedere meglio. Un momento. No. Non mi ricordo che... Ah. Ha ben detto che mia moglie bisognava segnarlo. No, forse dall'altra parte. Come? Eh, ecco. Ecco, buon po'. Lei dice? Così dice? Ah. Ah, cosa state facendo? Cos'è questo cracchio? Eh, stiamo guardando una foto di... Ah, vedere, vedere, vedere. Vuole? Sì. No, non è... Ah!